Il Comune di Arzeniano, nell'ambito del Piano di Azione per l'Energia e il Clima, si è posto come obiettivo quello di ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il 2030. Però possiamo già dire che entro un anno raggiungeremo già una riduzione del 20%, quindi è un buon risultato già ottenuto. Informiamo però anche i cittadini di una novità, tra l'altro siamo tra i primi comuni in Italia a predisporre quella che è una piattaforma per la cittadinanza, che sarà tra l'altro online nel sito del Comune tra qualche giorno. I cittadini hanno la possibilità attraverso questa piattaforma di calcolare quella che è la resa energetica, i propri consumi e di conoscere quelle che sono le migliorie che possono apportare alla loro abitazione per ridurre i consumi in un'ottica quindi di risparmio energetico.